The Avengers Age of Ultron Saga dedicata a propri vendicatori, ultimo film del ormai immenso universo cinematografico Marvel Che arriva proprio oggi nelle sale cinematografiche di tutta Italia In anticipo rispetto all'America dove uscirà il primo maggio E ancora di più in anticipo è stata la possibilità di vedere da parte appunto di una stampa selezionata il film Potete già trovare sulle pagine di Game Surf la recensione del gioco e del film E ovviamente adesso però vi parliamo un pochettino anche in prima persona di quella che è stata la nostra esperienza al cinema Siete pronti quindi, vendicatori, uniti Sono stato creato per salvare il mondo Gli uomini avrebbero dovuto guardare il cielo per trovare speranza Partiamo ovviamente dalla storia Age of Ultron sostanzialmente continua la fase temporale che è stata impostata appunto dai film Marvel in questi ultimi anni E sostanzialmente riporta il gruppo formato da Thor, da Capitano America, da Iron Man, da Hulk, da Vedova Nera e da Occhio di Falco A combattere contro un nemico davvero temibile, davvero particolare Il suo nome è Ultron, dà ovviamente anche il nome al film Anche questo è un ciclo narrativo che è già stato raccontato all'interno dei fumetti E che Joss Whedon ha preso e riadattato ovviamente per il grande schermo Chi è Ultron? Sostanzialmente se avete anche letto il nostro speciale e se non l'avete fatto vi consigliamo di farlo appunto per una sorta di approfondimento Ultron è un'intelligenza artificiale estremamente sviluppata che attraverso appunto un esperimento che viene fatto da Bruce Banner, Hulk e Tony Stark, Iron Man Riesce appunto a svilupparsi ed entrare nel corpo di un robot E distruggerà tutto quello che incontra per uno scopo finale che secondo lui è quello di salvare la Terra per ripartire da zero come ovviamente distruggendo l'umanità intera La particolarità di questa intelligenza artificiale è che è in grado di provare emozioni, è in grado di pensare in maniera super sviluppata E soprattutto può entrare all'interno di qualsiasi sistema operativo, di qualsiasi computer Quindi ha la possibilità di riprodurre tra virgolette il suo io all'interno di altri robot Nel film saranno introdotti anche altri personaggi che incontreremo nel corso della storia e che serviranno a portare avanti il filone narrativo appunto del film Li citiamo velocemente, sono Scarlet Witch e Quicksilver, Pietro e Vanda Maximoff, due gemelli Che abbiamo già visto uno dei due all'interno dell'ultimo X-Men E soprattutto, grossissima novità se vogliamo E forse è la più attesa prima che venisse appunto rilasciato il film in questi giorni È sicuramente Visione, interpretata da Paul Bettany, un altro personaggio molto particolare Un altro androide con le sembianze umane e con anche la pelle praticamente molto simile a quella umana Creata da Ultron Non vi diciamo cosa succederà, non vi diciamo quali sono le varie sfaccettature Ma vi possiamo dire che ovviamente all'interno del film Ultron cercherà non solo di distruggere ovviamente la Terra Quindi perseguire i suoi scopi principali Ma soprattutto di distruggere gli Avengers dagli interni Sapendo che non sono un vero e proprio gruppo Ma sono semplicemente un agglomerato di supereroi che cercano di collaborare per un fine comune Non vi diciamo altro sulla trama e vi consigliamo di andare a vedere il film Arriviamo così a parlare di quello che è poi la sensazione, i commenti che ci hanno lasciato questa visione Allora innanzitutto dobbiamo dire che Josh Whedon è stato bravissimo È riuscito a portare all'interno di questa pellicola di oltre due ore l'essenza del cinecomic L'essenza del fumetto Questo vuol dire che pur non mancando parti in cui si parla Perché ovviamente la storia va portata avanti La storia sostanzialmente poi servirà principalmente per dettare i filoni Che verranno poi perseguiti nei film che sono già stati annunciati fino al 2019 Compreso il terzo Avengers che sarà diviso in due parti Il film ci è piaciuto parecchio, ci è piaciuto tantissimo Proprio perché abbiamo trovato una quantità di combattimenti davvero esagerata E per esagerata non intendiamo solamente in termini puramente numerici di minutaggio su schermo Ma proprio la volontà di Whedon di portare all'interno di questi combattimenti Quindi quella sensazione di fumetto che ovviamente chi è un lettore Marvel può pienamente percepire Non vi diciamo quali saranno gli scontri Citiamo solamente appunto quello tra Hulk e Iron Man Con l'Hulk Buster che è sostanzialmente all'armatura proprio per combattere Hulk Utilizzata proprio per combattere Hulk Che è già stata vista nei vari trailer Ecco, già solo lì si percepisce la grandezza e la voglia di portare su schermo qualcosa di davvero importante Qualcosa di davvero importante che punta all'esagerazione Punta a mostrare tutta la potenza e tutta la forza degli Avengers Altra cosa che ci è particolarmente piaciuta è stato Ultron Ultron è un personaggio bellissimo È un personaggio interpretato da James Spader Che nonostante perda qualcosina ovviamente con il doppiaggio in italiano Ha una profondità e una caratterizzazione davvero incredibile E a nostro modo di vedere probabilmente si tratta del villain più riuscito Più sfaccettato di quelli usciti finora sul grande schermo Altra chicca che abbiamo particolarmente apprezzata all'interno del film di Widow È quella di aver rilasciato qua e là degli indizi, dei concetti, degli oggetti stessi Che richiamano ai grandi fan del fumetto tantissimi ricordi Ma lasciano anche intuire che cosa succederà in futuro Quindi in sostanza ci troviamo davanti a un prodotto che si bilancia perfettamente Tra l'offrire un qualcosa di semplice ed intuibile per chi non è un profondo conoscitore della saga fumettistica Ma allo stesso tempo non disdegna i grandi fan offrendogli un prodotto davvero particolare E credo appagante sotto tutti gli aspetti dal quale lo si guarda Arriviamo così alle nostre conclusioni Conclusioni che ci portano a consigliarvi assolutamente Avengers Age of Ultron Si tratta sicuramente di un passo avanti rispetto al primo film Si tratta sicuramente di un passo avanti rispetto anche ad altri film Marvel Che pochi sono quelli forse sullo stesso livello sono migliori di Age of Ultron Ve lo consigliamo perché se avete visto il primo film Ovviamente magari il piacere di vedere che cosa succede in questo secondo episodio Vi porterà appunto ad avere la curiosità di tornare al cinema Ma poi bisogna anche sottolineare come tutto quello che succede all'interno di questo film Avrà delle ripercussioni in futuro all'interno non solo dei prossimi film Marvel Che vi ricordiamo sono stati sostanzialmente già programmati fino al 2019 Ma anche all'interno delle serie tv che Marvel sta producendo Su tutte Agents of S.H.I.E.L.D. Quindi insomma se si vuole rimanere aggiornati Se si vuole capire tutte le trame e le sottotrame Che sono all'interno di questo grande universo cinematografico Age of Ultron è sicuramente un film super consigliato Ancora di più super consigliato perché si tratta anche di un bel film Quindi in sostanza il nostro voto è ovviamente 4 su 5 Un voto ampiamente positivo Non mi resta altro che consigliarvi appunto di tornare sulle pagine di Gamesurf Dove potete trovare la recensione scritta Dove potete trovare appunto la possibilità di commentare la vostra esperienza con Age of Ultron Di commentare quello che è il vostro pensiero sul film Se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, perché, per come E ovviamente vi consiglio di continuare a seguirci sempre su Gamesurf.it Su tutta la componente cinema Per rimanere super aggiornati su tutti quelli che saranno le news Le curiosità, i trailer, l'uscita di tutto il nuovo Di tutti i nuovi componenti, di tutti i nuovi programmi Per quanto riguarda i film Marvel Non mi resta altro che salutarvi per il momento E darvi appuntamento alla prossima settimana O comunque al prossimo aggiornamento Marvel Ciao a tutti e alla prossima Non sai fare di meglio Dovevi proprio chiederlo